Alchimie, questo è il titolo dell'esposizione personale di scultura in ferro battuto del maestro Pippo Contarino, artista accese impegnato sin dalla giovane età nella realizzazione di opere d'arte con numerose e differenti tecniche di lavorazione del ferro. Le varie realizzazioni vengono da varie scuole internazionali, perché girando per tutta l'Europa e anche a livello internazionale ho potuto incontrarmi con grandi maestre dell'arte del ferro perché ogni nazione ha una forma di lavorazione di scuole particolare. Noi in Italia non abbiamo più scuole, l'ultima era a San Zervolo vicino a Venezia, è stata chiusa e io giustamente ho continuato a incontrarmi con vari maestri di cui abbiamo potuto scambiare le nostre culture. La mostra, organizzata dall'Associazione Culturale KDM al Collegio Santo Noceto, sito in corso Umberto 188 ad Acireale, verrà inaugurata stasera alle ore 19.30 con un vernissage nel corso del quale interverranno la giornalista Rita Vinci Guerra e il poeta Giovanni Rizza. La mostra sarà visitabile sino al 23 dicembre, tutti i giorni, dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Noi come associazione abbiamo avuto questa opportunità di organizzare questo evento, vi aspettiamo stasera, ci sarà il vernissage alle 19.30, vi aspettiamo al Collegio Santo Noceto. Numerose le opere esposte, tutte emblematiche nel proprio significato e in linea con l'obiettivo della mostra, promuovere gli antichi mestieri. L'obiettivo di questa mostra è promuovere anzitutto gli antichi mestieri, l'arte fabbrile e omaggiare a Cireale delle sculture di Pippo Contarino. Una delle opere di Pippo Contarino che porta il titolo Goccia di Luce, verrà poi messa nella mostra che si terrà lo stesso giorno, sempre a Santo Noceto, a cura dell'Associazione Artigiana Cesi ed è una mostra di presepi.